Un protocollo d'intesa per la sicurezza sui posti di lavoro nella città metropolitana di Venezia. Il progetto è inserito all'interno dell'osservatorio preseduto dal prefetto che pianifica misure sempre più capillari di prevenzione coinvolgendo tutti gli interlocutori preposti. Vediamo i dettagli con Lucia Zorzi. È stato firmato presso la prefettura di Venezia un protocollo d'intesa per il rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nella città metropolitana di Venezia soltanto nel 2022 si sono registrati oltre 15.000 incidenti e 22 con purtroppo esito mortale. Uno strumento di monitoraggio a 360 gradi. Il protocollo che è stato stipulato, io ringrazio tutti gli enti che hanno partecipato, nessuno assente tra i tanti, denota che questa sensibilità è molto aumentata e quindi ognuno di noi per quel pezzo di responsabilità che è chiamato a dare il massimo della propria disponibilità perché questi controlli siano davvero efficaci, soprattutto in via preventiva. Prevenire incidenti deve essere l'obiettivo di tutti, tenendo alta l'attenzione alla sicurezza. Coinvolti anche gli istituti che propongono l'alternanza scuola-lavoro. Questo protocollo deve mettere in condizioni noi di dialogare e di essere una guida perché se ci sono vari organi di controllo che sanzionano la singola azienda e queste aziende invece le altre non sanno il suo settore qual è la sanzione o quali sono i dp che devono utilizzare o quelli che sono i migliori comportamenti, non stiamo facendo di tutto perché un incidente non ci sia. Se questo protocollo va in questa direzione l'attuazione funziona, se non ha un'altra carta.